Guardatevi, fermi, fermi, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, è stata la cosa che si sta più sul cazzo di tutte, è ricata l'energia, fate due cose, al 3 si parte con uno libro, lo fate per voi con scritti e per tutti con scritti del 99 vuoi che ci sono quest'anno, pronti? 1, 2, 3 Questa è una bella, è proprio una bella, si guardate? Vi facciamola 1, 2, 3 Grazie, grazie Grazie Grazie